sono fiducioso mi va bene anche una partita bella ma corta corta ma bella volevo dire perché non importano le dimensioni ma come l'hai saputo usare vabbè io sono l'eccezione che conferma la regola no dai master ci devi credere però ci devi credere però ci darà pure la mappa nuova no la provenza figurati se ce la dà comunque warpeak non so se ha ragione a torto mi ha detto che c'è un'altra mappa però non si ricorda il nome perché non hanno messo battlefield 5 su stadia secondo te ora che ci penso ma non ha aderito a nessun programma vabbè che fino all'altro ieri non stava neanche su steam adesso infatti sottovo steam ora recentemente e beh si sono accorti che per secondo me per aumentare il numero di giocatori su multiplayer master un'altra mappa bellissima ma guarda ci può anche stare o no no non ci sta vabbè quasi quasi la preferisco rispetto all'altra naturalmente naturalmente carri manco manco c'è già 0 di 2 io aspetto a spawnare perché qua sotto c'è un punto di controllo tra l'altro nota bene americani in africa che è credibilissimo ci sono due aerei però c'è d'amblè hanno preso tutte le mappe e hanno messo gli americani c'è storia scostati se c'è una cosa che vabbè io spero che qualcuno vada su F ma neanche guarda tutti i suoi stanno andando appena conquistano E ci andiamo su E dai che dici non c'è come dirlo Angelo che non lo conquisteranno mai dai andiamo su E vai 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 no no Angelo io aspetto voglio il carro sta mappa voglio il carro cioè c'è un altro in D e un altro in F perdiamo terreno anche qui quattro carri potevano metterne di più poi lo sai secondo me qual è l'inchiappettata l'ho gettata mille volte ma la ripeto anche qui l'inchiappettata è che in Battlefield 4 loro mettevano cioè le classi erano considerate diverse no? qui no cioè qui hai uno slot che puoi fare carro puoi fare mezzo leggero che secondo me è quello che ha ha praticamente oh nessuno va su F vai te su F Angelo è appena appena mi rispia io sì provo su D ma anche qui è un'utopia è un tra l'altro veramente cioè queste mappe potevano lasciare i come si chiamano i gli inglesi e quelle europee mettere gli americani sarebbe stato un po' più ma come ma perché l'hanno già insomma F l'hanno conquistato loro vabbè provo ad andare io su F così quando arriverò avranno preso il carro cioè nasce ed è già preso il carro tra l'altro mi ha fatto spawnare cioè sono a Londra sto pigliando il vaporetto guarda ci rinuncio al carro non hai oge è passato un carro nemico o sbaglio? minchia stuca angelo è mezz'ora che cammino giusto per la tua informazione OF si tangi e sega proprio nessuno l'ha presa hai detto ma che me frega me c'è un tigre ma non ce l'ho fatta a a a a a a a proviamo a mettere un po' di roba qua sono tu F cazzo bombardiere nemico ciao master si come si è messo? Sto sparando Perché verso di me spari? Per farti vedere dove sono Ok, abbiamo preso l'obiettivo Fox Cazzo C'è gente sulla montagna Sì, ho visto, ho visto Sto andando via Cazzo, comunque Battlefield rimane il miglior gioco Visivamente parlando C'è un cazzo da fare Eh? Non ho già per gli occhi Aspetta che Voglio Oh, figa Ma proprio si mimetizzano con le rocce Da coppia, mi ha dato Ho visto un carro qua Sei sicuro? Hanno messo l'autoblindo, cazzo Figa, mi sta venendo a fare il culo Angelo, aiutami Porca troia Anche lì Angelo, mi viene a dare una mano? No, no, eh Eh no Non mi stanno Che culo è passato un blindone Mentre in cui Ecco, bravo Stai lì Scusa Colpo di stress Type 2A Non Sei morto o male, vero? No No C'è il 2A Ci hai fatto? Angelo, non mi far cagare addosso, per favore Perché mi sembravi Eh, ti sembravo Johnny Sembravi un cattivo No, esploso, no Dai No No Dai, ma come cazzo fa un carro? Oddio Perché c'è un carro armato là Ma dov'è? Là Ma non è lui che ha fatto fuoco Dai, sono in mezzo a nulla Ero venuto qua apposta C'è così morirò di nuovo Che ti devo dire? Ti prego non sganciare bombe Ci sta andando uno Dove? Aprende il camion Sono pure pingato, master Visto Sono vari Ce n'ho due Oh, figa Dov'è? No, che cazzo? Ma un colpo? Non ci credo che è andato in questo copo Guarda, non ci credo neanche se me lo fa vedere Comunque uno me lo sono portato al creatore Però che cazzo, porca miseria Ho lasciato lì un cannone E esplode Se non ci so Dove andiamo? Vorrei avere un carro Ecco, questo è il mio Il mio segreto È il mio fetish Proprio Cioè, ma Invece no Han deciso che niente Comunque Cazzo Non si capisce perché Quando tu hai il carro Tipo L'affanteria ti fa un culo Cubico Cazzo Ce l'hanno rotto il carro Sì, ho notato Ho notato Quando il cazzo Ce l'hanno gli altri Cioè, io Io tipo Non riesco mai a fare fuori qualcuno Hai visto se c'è una Una sacca di munizioni Da qualche parte Niente, vero? No Manco per il cazzo, dici? Assolutamente Oh, ma come cazzo fai a prendermi? Angelo, salvami Ti prendo Eh, sì, ciao Buonanotte, Angelo Eh, vabbè Erano due Erano due Erano due E F l'hanno ripresa Questo cazzo di carro qua in mezzo Cosa fa lì? Niente, mi tocca andare in base Niente, cioè In base Non è che mi fa Spawnare nella base No, indietro Perché dici Non sia mai Non sia mai Che mi fa rispawnare lì Vabbè, vabbè Dai, ora Riprendo Sto minchia di Di carro Voglio piazzare Un Un cazzo di cannone Voglio vedere se Angelo, adesso tu hai una missione Devi guardare se ci sono le mine Capito, Angelo? Le mine Perché se no Sopra questo La nostra carriera È proprio la Corta Carro Oh merda, merda No Altro carro Dai, nicchia Che ti devo dire? C'ho il carretto dietro Angelo, io sto Sono sull'orlo di una crisi di nervi Salo C'è sto capo di E' il suo piglia Sono tutti concentrati su C Ma chi se ne frega Andiamo su C, vai Ah, ah Oh, oh Ho un carro, Angelo Allora prendo Tanto è quello che usavo Oh, bene Oh, bene Angelo Guai a te se Davanti Sono due Non le riesco a beccare Vieni un po' più a sinistra Uno l'ho fatto fuori Vieni un po' più a sinistra Andiamoci, sì Secondo me hanno esaurito le munizioni Uno è morto L'altro non lo vedevo Vabbè, andiamo a ripararci No, no, no Non scendere Non scendere Andiamo a ripararci L'hai visto? Stai sparando a caso O l'hai visto? Stai sparando a caso Ok Adesso andiamo su Stu cazzo di F Mi raccomando, Angelo Devi assolutamente guardare Se ci sono Mine, eh No, non attirare l'attenzione Di un aereo Comunque una volta Ho battuto un aereo Col cannone La tua Ha successo tipo due volte In dita mia E poi mai più Però Una ero proprio con un cannone normale L'altra col cannone armato Me li ricordo ancora Questo ricordo Sto andando per di qua Non tanto perché mi voglio incastrare nelle rocce Il che è un nobile obiettivo Ma Perché vorrei Angelo ci sei ancora o sti se è addormentato No, no, sono qua Se è accesso Siamo ancora a rimontare Niente, vogliono chiudere a panino Mi raccomando, Angelo Sii Mine Sii E siamo illesi Cazzo è possibile Ah Carro, carro, carro C'è gente sulla montagna Angelo riesci a ripararmi questo Questo qui No, il punto di rifornimento Non mi frega niente Che tu me lo ripari Dov'è il punto di rifornimento? Non lo vedo Ah, bravissimo Maledetto cecchino Oh cazzo Ok, fatto No, 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 no Entra dentro C'è cecchino Cecchino qua Vabbè, andiamo Oh, c'è questo qui che gira con l'autoblindo Porca troia Che va velocissimo Ok Questo è decisamente danneggiato Mi raccomando, Mine Quello è danneggiato Cazzo Ti diamo un aiuto Dai, diamogli un aiuto No, Angelo Vai No, devo rilevare Sì, tieni presente che siamo esposti Lo sforzo bellico, Master Siamo esposti, Angelo Vabbè, sali Ok Muoviti Riparato Fammi salire Vai Perché ci sta a fianco Che se arriva un bombardiere Secondo me ci usa come scudo umano Maledetto bastardo Cioè, dopo che l'abbiamo aiutato Lo sai qual è il mio obiettivo, no? Andare sulla pista d'atterraggio E ammazzare tutti Ammazzare everyone Cazzo Bombardiere Non ci ha visto, no? Ma non incontriamo nessuno Angelo Mi preme non morire male Ho distrutto un veicolo, sai Con le mine Ah, sì, ho letto 200 punti Che bello Lì c'è un caccia No, non attirare l'attenzione, Angelo Il caglio addosso Se lo voglio rompere Ti ricordo che lui Gli basta una bomba Se ha quello potenziale Una Ma qua Sembra abbastanza Oh cazzo 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 Angelo Ci credi che mi sto cagando addosso? Eh sì Guarda Vado nel pertugio Infanteria Dove? Qua Non la vedo Era qua di fianco Vabbè Dove cazzo è andato? Però non ho capito perché Quando io Quando lo si sdraio Tra le fresche frasche Io non vedo più un cazzo Quando mi sdraio io Tra le fresche frasche Mi vedono subito Ah eccolo Cosa? No è È la casa indistruttiva No ma davvero? Sì ci sono i letti Che non si possono spostare Davvero? Lì è a Castello Abbiamo perso l'obiettivo No ma Cioè Questa è una novità In Battlefield Ah no Ho visto spy da questo lato La destra Non li riesco a vedere Cecchino Cecchino davanti a noi Ora è undici Ora è undici Ora è undici Minchia non lo vedo Qui ci va? Guarda la nostra Minchia che evoluzione Sembra di giocare A Tony Hawk Complimenti Cioè è sparito È già secondo Che cazzo mi fa Udini Angelo guarda la strada Anche Qua sembra tranquillo Bel lavoro Ora l'obiettivo liti è nostro Tranquillo Guarda avanti BOOM Abbiamo perso l'obiettivo DOC Davanti a noi Davanti a noi cosa? Fante o? Carra armato O quantomeno contraerea Guarda il terreno Cazzo guarda il terreno Eh non si vede un cazzo Guardati Guarda avanti Mi raccomando Guarda avanti Non deve accadere Qua di fianco c'è una radio Dai no Davanti abbiamo due mezzi Uno Quanti cazzo di Occio che potrebbero arrivare i lati eh E là c'è un carro armato Dove c'è un carro armato? Q Si va avanti Qui lo dita qua Q La Qua Quello Quello Preso Ok E' illuminato Guarda le mine per favore Si non si riescono a vedere quando impegni Speriamo che qua non ci sia un cazzo Qua sotto L'hai disintegrato? Prendilo tu Prendilo 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 tu Il carro Che io lo rubi Perché Perché c'è lo rosso? Ah Sabe scoppiare Se tu mi copri Lo sistemo No 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 Vai Vai a un punto di rifornimento Dovresti vederle Sennò rischi di brutto Il punto di rifornimento è sul beach Non fai Sì Se vuoi ti provo a A dare la giusta copertura Vieni qua Segui E vabbè Almeno non è Non è dei loro Vedi il lato positivo Io sono danneggiato Cazzo Mi hanno preso di striscio Danno strutturale Io non so se A volte proprio Te lo devono fare Perché te lo devono fare O C'è proprio Danno strutturale Dio la merda No non sono riuscito a distruggerlo Che amarezza Beh dai c'è stato C'è stato però Di poco ma c'è stato Hai visto Date un Carron Master Comunque abbiamo dato un sacco di supporto Eh sì Guarda siamo tra i primi e quattro No vabbè Sono in settima posizione 13 e 4 Comunque tutto anche merito tuo Che mi riparavi Beh grazie grazie Alla faccia ugazza Come diceva il bambino al Napoli Che famo?